Ciao, sono Lizzie e oggi vivremo una fantastica avventura spaziale con questo esperimento zanfastico ispirato alla gattosfera come nella casa delle bambole di Gabby Gabby e i gatti Gabby amano vivere avventure nello spazio quindi da oggi faremo una marea galattica con colori e latte sarà fuori da questo mondo! Andiamo! Per prima cosa avremo bisogno di latte intero, una ciotola, un bicchiere, detersivo per piatti, colorante alimentare e bastoncini di cotone Cominciamo col riempire la ciotola con latte intero Versa, versa, versa! Questa sarà davvero la via lattea! Credo ci serva un altro bicchiere di latte Versa, versa, versa! E ce l'abbiamo fatta! Ora aggiungiamo i colori della nostra galattia userò rosa, viola e blu Ok, proviamo Giusto un pochino Quando finisco con questi colori magari ne faccio degli altri Ecco un po' di viola Sarà troppo bello, me lo sento! E ora un po' di blu Aggiungo un po' di rosa Chi non ama il rosa? Ecco qua Questi colori sono gattastici! Prendiamo il bicchiere e aggiungiamo del detersivo per i piatti Penso che ne serva solo un po' Ecco fatto! Ora prendiamo il bastoncino di cotone e immergiamolo nel detersivo così Ok, ora arriva la parte divertente Prendiamo il bastoncino di cotone Agitiamolo come se fosse una bacchetta magica e immergiamolo nel mezzo della ciotola dove sono i colori Stupendo! Ha appena creato una stella con i colori È così bello! Wow! È davvero fuori da questo mondo! Questa è una galassia davvero gattastica! Sembrano i vortici spaziali che Gabby e Pandi hanno visto nello spazio Questa galassia è zampastica! Ma penso che serva ancora qualcosa Ah sì! Ogni galassia ha bisogno di... Stelle! Sapete cosa possiamo aggiungere per farle sembrare stelle? Brillantini! Come dice Baby Scatola Che poi rendono tutto più bello! Ok, prendete i vostri brillantini Io sto usando quelli argento Ma potete fare le vostre stelle di qualsiasi colore desideriate Ok, ora versateli sopra i colori Proviamo! È così luccicante! Ora prendete il bastoncino di colore magico E trasformiamo questo mix in una galassia brillantinosa! Per farlo però fatemi sentire come cantate Yo! Hubble Bubble! Yo! Hubble Bubble! Yo! Hubble Bubble! Wow! Wow! Guardate che esplosione magica! Questa galassia di stelle e vortici è... FUSASTICA! È stato gattastico fare questo esperimento galassia vorticosa di latte E spero vi siate divertiti! Per altre divertenti attività Guardate la casa delle bambole di Gabby su Netflix E risdone ogni volta che vota l'amore nell'introduzione O Rare e Cosmic Piccoli ��ica UTA U periodically U e